La situazione continua a essere purtroppo critica, io direi quasi drammatica. Tra l'altro è un periodo di influenza e quindi già il dato storico a Reggio è difficile. Oggi è ancora più difficile per l'influenza. Quindi siamo in difficoltà soprattutto con alcuni gruppi negativi e con i gruppi A positivo. Per cui il nostro appello costante e continuo affinché la gente non dimentichi che abbiamo bisogno di loro, altrimenti l'ospedale muore e non ce la può fare. L'appello è quello di ricordare che la donazione di sangue deve essere uno stile di vita fondamentale per tutti quanti noi ed è l'unica possibilità che noi abbiamo di sopravvivere per noi stessi e per gli altri. Domenica saremo aperti al Morelli e all'Avis per la consueta apertura domenicale. Per cui ve lo diciamo con il cuore aperto venite, accorrete e cominciate a questo nuovo stile di vita che permette veramente a tutti di dare una svolta.